Foggia ha chiamato al Tris, anzi al Bis in trasferta e alle tre vittorie consecutive. Sarebbe un filotto mai riuscito ai ragazzi di Zeeman in questo inizio di stagione, visto che è riuscito soltanto nei due successi di fila con Fidelisandria e Messina il 29 settembre e il 3 ottobre a cavallo tra la sesta e la settima giornata. Poi un rendimento sempre altalenante, qualche passo falso di troppo e qualche pareggio che non ha consentito di spiccare il volo quando il Foggia ne aveva l'occasione. Ora i rossoneri arrivano alla trasferta di Campobasso dopo le due vittorie con Paganese e Catania, ma più in generale in un periodo che può definirsi positivo perché i rossoneri è dal 10 ottobre che non perdono un match. In quell'occasione era il Palermo il 10 ottobre per 3-0 al Barbera, poi la vittoria con il Monopoli, pareggi con Bari, Taranto e Picerno e appunto le due vittorie appena citate. Se i risultati utili consecutivi, seppur nel triplo pareggio ci sia un pizzico di rammarico, ma sicuramente si può definire il Foggia una squadra in salute ed ostica per gli avversari. Ora arriva la trasferta di Campobasso che anticipa il match con la Vibonese e sarà il preludio poi a un periodo di fuoco Catanzaro, Francavilla e Avellino. Se il Foggia vuole arrivare a lottare per le posizioni alte della classifica, questo è il momento di non sbagliare più.